assolutamente noi innanzitutto siamo qua per chiedere scusa io ho fatto ho fatto il calcio sono successe nella mia carriera queste partite bisogna solo chiedere scusa almeno io alla mia prima chiedo scusa niente bisogna mi sono mi sono mi sono fatto un'idea che me la tengo per me giustamente però sono un po deluso e demoralizzato il perché perché io ho visto collaborazione quattro giorni bene 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 perché io non sono entrato a gamba tesa io sono entrato per cercare di entrare nella testa per modificare qualcuno per per dargli entusiasmo con i giovani io vengo da un campionato fatto con la primavera i giovani mi piacciono i giovani mi piacciono ci lavoro quei giovani gli do la paccata sulla spalla ho cercato di fare questo ho cercato di fare questo in questi quattro giorni però ho chiesto di avere coraggio questa è una squadra che è abituata a buttare la palla lunga squadra che purtroppo è abituata a buttare la palla lunga e ho lavorato su questo abbiamo fatto in modo che questo non accadesse però poi per vedere gli episodi vai a vedere quelle che è successo per vedere dei gol che ha preso sono dei regali però l'allenatore non può insegnare la diagonale non posso insegnare che la palla non ti deve passare sotto alla scarpa questo io non lo posso insegnare posso insegnare come possiamo andare a fare gol ma non posso insegnare una diagonale questo campionato ma secondo me secondo me secondo me adesso ti dico di sì però io ti dico fino a stamattina io avevo percepito totalmente cose diverse che qualcuno che mi ha chiamato pure detto no squadra su me è una squadra che ha qualità però sappiamo bene che gli under qua sono importanti gli under fanno fanno la squadra gli under in questi campionati sono decisivi voi avete visto che io per fare qualche cambio o cambiare modulo ho fatto 50 miliardi di pensieri di dire però quando decidi di giocare con l'over in porta dove io ho pensato in questi giorni sentendo pure un po di dare un po di tranquillità al ragazzino in porta di farlo un po riprendere magari veniva da qualche errore però poi i giochi con l'over in porta ai problemi se io devo mettere una punta devo togliere falla se io devo mettere un esterno devo togliere è diventato un po po difficile adesso magari la so meglio questa situazione ci lavorerò meglio però adesso voglio vedere reazione voglio vedere la risposta che ci sta capisci poi è facile buttare tutto il fango addosso magari a una sola persona oppure ci dobbiamo prendere responsabilità perché qua c'è gente di 33 32 anni 29 anni gente che ha giocato e si deve prendere responsabilità